Diremo chiaramente a quelle aziende che sono sedute al tavolo dell'università a spartirsi i soldi delle nostre tasse, che sono sempre più alte, gli diremo chiaramente che l'università azienda a noi non ci piace, che questi tagli e questa austerità non possono colpire ancora una volta il mondo della formazione, che ora che l'Ateneo si prende le proprie responsabilità, che vuole chiudere biblioteche, che mette facoltà numero chiuso come ingegneria, che taglia le borse di studio, che privatizza la mensa, queste sono le scelte politiche che sta facendo l'Ateneo di Bologna. Ed è un cartello, eccoli i soldi Dionigi, mettili questi soldi, rubati anche questi, rubati anche questi Dionigi, rubati anche questi soldi, perché tanto sono i nostri, sono quelli che state già rubando, ed è un cartello, non abbiamo portato il cappello da asino, giusto perché? Non volevamo infierire, ma questo è l'università del merito. Basta, tasse, soldi agli studenti! Basta, tasse, soldi agli studenti! Bene, poi se non ci rendiamo, le portate, le portate le nazioni e le dichiarazioni, i giornali e le nostri studenti, non siamo venuti a dialogare, portate le istituzioni, le soldi! Non ce ne prendo un cazzo quello che hai da dire, stai zitto e non ci soldi! Scusi, ma con l'attrezzatura lì, quant'è? 10.000 forze di studi! Grazie, bene, direttore! Basta, tasse, soldi agli studenti! È solo un passaggio, è solo un passaggio necessario per continuare ad agitare l'università, per continuare a vivere! Basta, tasse, soldi agli studenti! E oggi, signor, non sono una pentacoli, i negozi di marketing di Alma Mater! Perché è come vengono spesi soldi! Vengono spesi in marketing! Vengono spesi in merchandising! E in un'università metrina! È così che vengono spesi soldi agli studenti! Non vengono spesi per il nostro studio! Non vengono spesi per la messa! Non vengono spesi per la messa! Non vengono spesi per la messa! Non vengono spesi per tutti gli studenti! Basta, tasse, soldi agli studenti! Basta, tasse, soldi agli studenti! Basta, tasse, soldi agli studenti!